Il motivo della campagna è molto semplice, pensiamo che una delle cause principali del nostro declino sia proprio la scarsità di risorse che in questo momento riusciamo a immettere nel sistema economico per colpa della quantità incredibile di sprechi pubblici e di spese improduttive. Quindi l'obiettivo è sensibilizzare la popolazione, in questo caso a Montesilvano davanti alla sede Equitalia, di fronte al fenomeno dello spreco di risorse pubbliche che viene effettuato regolarmente a tutti i livelli, sia a livello centrale che di enti locali. Ma ci credete pensabile nonostante l'aria che tira? Noi non siamo i soli a crederci perché ormai di tagli agli sprechi ne parlano tutti, noi crediamo che per poterli veramente realizzare sia necessario muoversi al di fuori del sistema dei partiti tradizionali, cioè crediamo che gli altri che ne parlano poi in realtà non riescano a realizzare nulla di concreto perché ne beneficiano indirettamente. Quindi noi crediamo che sia giusto farlo, come dicono anche molti altri, ma sia importante costruire un movimento alternativo al sistema politico attuale per poter veramente riuscire a realizzare dei cambiamenti.